È un giorno in cui le belle idee cominciano a prendere forma e noi ci crediamo molto, con forza e convinzione partecipiamo a queste iniziative per poter catturare le belle idee e farne tesoro per far sì che il digitale, perché qui parliamo molto di digitale, possa aiutarci a migliorare ancora di più l'esperienza di viaggio dei nostri clienti.